Non lo sembrava Solo le cose che si muovevano praticamente Però non ne sei sicuro Non puoi dire che era il tiranno Io lo spero ma comunque non era Diciamo un player normale Ok non era un giocatore Quindi non era neanche il dottor Ghiaro o il dottor Gaster Perché loro hanno le sembianze di un giocatore Poteva essere qualunque Però non abbiamo granché Possiamo supporre Allora prima di tutto sappiamo che tutti Non lo sappiamo Meglio che restare fermi Scusa se ti interrompo Cosa c'hai? Ma devo farti vedere una cosa Cosa? Allontanare io il piacere Tieni mi è arrivato prima l'edimentario Ti è arrivato quei Oh mio Però io te l'ho detto Io te l'ho detto Che roba è Ti giuro ce l'ho da prima Sei zitto You will be helping me or else Everyone will perish Se da quanto ce l'hai? Da prima Da prima è pochissimo Te lo giuro Pochissimo quanto? Da oggi Spero Da oggi sì 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 da oggi You will be helping me or else Everyone will perish Tu 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 ne sei qualcosa Quasi come il mio praticamente Tu ne sei qualcosa? Tu ne sei qualcosa? No 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 io ho questo mio e basta Non posso da messaggi Perché a Stefano? Tu mi aiuterai O altrimenti Puntini Tutti quanti Periranno Moriranno Allora è diverso Ma il significato è lo stesso Di quello di Mario E c'è anche la faccia dell'intruso Ma scusa ma Mira Questo è un libro Non è qualcosa che si è